Una puntata speciale di Polifemo dedicata all'approvazione del piano urbanistico generale riguardante il comune di La Terza. Una puntata in cui cercheremo di confrontarci con i vari soggetti autori dello stesso piano, quindi la parte amministrativa, la parte tecnica. Iniziamo ovviamente con il sindaco, l'ingegner Gianfranco Lopane. Allora sindaco, una pietra miliare certamente lungo il cammino dell'amministrazione da Leiretta, un punto fondamentale pietra miliare perché lascia traccia nella vita amministrativa, nella vita di un comune, in qualsiasi comune del comune di La Terza nella fattispecie. Un atto che è anche frutto, figlio, parto di una concertazione, quindi di più soggetti che hanno detto la loro sullo stesso. Parliamone. Sì, è un risultato straordinario. Un piano urbanistico generale non è un atto amministrativo semplice. Credo sia l'atto amministrativo più importante che un'amministrazione possa varare. Questo perché attiene proprio con lo sviluppo della città. Il Pug non riguarda soltanto scelte legate all'edilizia, riguarda l'economia, riguarda l'ambiente, riguarda la mobilità, riguarda scelte strategiche che hanno ricadute in un tempo che non è soltanto immediato, ma è un tempo lungo. Non a caso il PRG del comune di La Terza è di 15 anni fa e in 15 anni abbiamo potuto constatare le potenzialità di quel vecchio strumento regolatore, ma anche i limiti. Siamo partiti proprio da qui, in un lavoro che è stato anche abbastanza particolare perché abbiamo ripreso un lavoro che si era interrotto nello scorso mandato amministrativo e lo abbiamo attualizzato. Il piano urbanistico generale che andiamo ad adottare oggi è un piano che è già adeguato a tutti gli strumenti urbanistici sovracomunali in vigore. Penso per esempio al PPTR, il cosiddetto piano regionale per il paesaggio, o penso anche al fatto che il nostro piano è già adeguato alle norme del PAE, anzi con l'autorità di bacino distrettuale abbiamo fatto un proficuo lavoro. In realtà il nostro piano è stato anche condiviso con il Ministero, con il MIBACT, è stato condiviso già con la Regione in un approccio molto aperto e copianificato. Oggi non ha senso adottare dei piani che poi si bloccano nelle fasi finali. È importante invece condividere tutti i passaggi con gli enti coinvolti già dall'inizio. Per questo che il nostro piano si può dire a tutti gli effetti copianificato e condiviso anche con i cittadini. Cittadini che soprattutto ci chiedono semplificazione amministrativa. Ecco perché la valenza di questo piano è anche in termini di semplificazione, soprattutto nei riguardi dell'autorità di bacino, abbiamo ottenuto all'interno delle norme tecniche di attuazione del piano la possibilità di gestire internamente negli uffici tecnici comunali i pareri e quindi evitare al cittadino lunghissime attese verso enti che sono distanti da quelli comunali e magari nemmeno riconoscibili dagli stessi cittadini. È un piano che punta molto sulla dimensione strategica e riprende molto le opportunità che vengono tracciate anche nel piano paesaggistico regionale. Pensiamo per esempio a tutte le aree che ricadono all'interno delle zone SIC, ZPS, del Parco Terra delle Gravine. All'interno del piano paesaggistico hanno delle progettualità strategiche e il nostro piano le recepisce. E inoltre è un piano anche flessibile perché nella parte strutturale, nella parte programmatica dello stesso Pug potranno essere modificabili sempre in seno all'aggiunta e al Consiglio Comunale, quindi senza riandare in regione. Di cosa parla questo piano? È un piano orientato al contenimento del consumo del suolo. È inutile continuare a espandere i territori quando poi non abbiamo la possibilità di manutenerli. Per questo il nostro piano non prevede grosse aree di espansione ma prevede una minima espansione in aree dove è giusto creare verde e servizi. È un piano che punta molto dal primo momento sulla rigenerazione urbana. In realtà già in fase di documento programmatico preliminare siamo riusciti a dotare quello strumento, quel documento degli aspetti della rigenerazione urbana. E per la verità il nostro Consiglio Comunale ha già approvato i cosiddetti PIRU, quindi due piani di rigenerazione proposti da privati che hanno proposto delle progettualità di edilizia contrattata che porteranno sicuramente dei risultati significativi per il nostro territorio. Cosa altro contiene? Contiene la risoluzione di alcuni problemi, di alcuni conflitti, di alcune situazioni che col PRG non si erano sviluppate. Il nostro PRG per esempio conteneva grandi aree, cosiddette mar, miste artigianali, casa e bottega, aree che non sono mai decollate, non sono mai partite, un po' perché è cambiata anche l'uso dell'attività produttiva sotto casa, un po' perché quelle aree erano molto frammentate, con proprietà molto parcellizzate e c'erano delle presistenze che le andavano a precludere. Con questo piano andiamo a risolvere il problema delle zone mar, andiamo a individuare una nuova zona produttiva, perché l'attuale PIP è ormai completo e soprattutto, altro aspetto molto importante, andiamo a tracciare una nuova viabilità extra-urbana che permetterà finalmente di evitare il passaggio dei mezzi pesanti dal centro del paese. Questi sono tutti aspetti significativi e strategici che sono venuti in questo momento, in questa fase di maturità della pianificazione territoriale, dopo che la terza ha approvato il piano della mobilità urbanistica, il piano della rigenerazione urbana, il piano del marketing territoriale, tutta una serie di pianificazioni che riguardano l'assetto del territorio. Quindi il Pug è un cappello all'interno del quale confluisce lo studio del territorio in dettaglio e che porterà sicuramente dei benefici economici assolutamente rilevanti. Cosa ci aspetta dopo questa sera? Ci aspetta un iter che speriamo sia breve e in questo è importante rendere informazioni ai cittadini, perché dopo la pubblicazione del Pug adottato i cittadini avranno 60 giorni per presentare le osservazioni e poi ci saranno ulteriori 60 per le contradduzioni. Alla fine di questa fase, che noi ci aspettiamo sia ricca, per cui invitiamo i cittadini a farci quante più osservazioni possibili per renderlo sempre più partecipato. Assolutamente sì, per migliorare il piano. I piani si costruiscono soprattutto con le osservazioni, con gli input e gli stimoli che possono venire da cittadini e tecnici. Dopo questi 120 giorni ce ne saranno 150 ulteriori all'interno dei quali arriveranno i pareri degli ulteriori enti. Dopodiché si andrà ad approvazione del piano urbanistico generale e sarà un grande risultato per la terza. Giovanni Caldaralo, assessore all'urbanistica del comune di La Terza, il protagonista della serata per così dire è il piano regolatore generale. illustriamone le caratteristiche, gli aspetti innovativi, i benefici che comporterà per il territorio. Grazie. Allora, per descrivere questo piano parto da un aspetto non secondario, ma che ritengo quello più importante di tutti, senza il quale non saremmo riusciti ad arrivare a questo punto. C'è stato un importante studio sia delle cavità che idrogeologico che ci ha permesso di andare a trovare quelle criticità presenti all'interno del nostro territorio attraverso questo studio, che ci ha permesso quindi di mettere in sicurezza alcune situazioni e che ci ha permesso anche all'interno del centro storico di classificare tutte le cavità presenti. Quindi, alla fine di questo studio, che tra l'altro la parte della progettazione ci è anche stata finanziata, ci permetterà di andare a realizzare quelle opere idrauliche, spero presto, spero nel corso degli anni, che ci permetteranno di mettere in sicurezza i cittadini, di mettere in sicurezza il territorio. E alla fine la cosa più importante è che in determinate aree, senza adeguate opere, non si può costruire perché altrimenti anche la sicurezza dei cittadini viene messa in discussione. Quindi credo che la cosa più fondamentale di un piano sia proprio questa, darsi delle regole, non andare contro le regole e quindi mettere in sicurezza la vita di tutti. Dopodiché questo è un piano che tra le tante cose che mi viene da menzionare è la zona industriale a iniziativa privata. Eravamo in presenza di una zona industriale ormai satura, dove non c'era possibilità di avere più altri lotti, quindi di dare la possibilità ai cittadini di aprire nuove attività. Quindi siamo andati a individuare una nuova area industriale in cui il privato a un certo punto potrà acquistare le aree direttamente, quindi realizzarsi il suo lotto e quindi ampliare ulteriormente la propria attività al di fuori del centro abitato. L'altra cosa importante è che con questo piano non ci stiamo allargando a dismisura, cioè questo non è un piano che si va a espandere in maniera cieca, assoluta, assurda all'interno su altre aree, ma abbiamo cercato di regolamentare l'esistente in maniera, anche attraverso le volumetrie, e quindi abbiamo cercato di regolamentare l'esistente, aumentare dove era possibile in maniera intelligente le volumetrie, intervenire sulle miste artigianali, sulle zone mare, quindi dare una possibilità diversa di costruzione rispetto al presidente PRG, dove c'era stata un'idea anche giusta, se vogliamo, di zona mista artigianale, quindi dare la possibilità di farsi l'abitazione anche all'interno dell'attività artigianale, che però queste aree non sono mai decollate come dovevano, quindi siamo riusciti a ridisegnare anche questo. E poi, una cosa non secondaria, quindi ancora più importante, abbiamo cercato anche di incentivare, e credo che questo in futuro si farà ulteriormente, anche attraverso i professionisti, attraverso i tanti incontri che siamo andati a fare, i PIRU, i PIRU che sono dei piani che vanno di pari passo rispetto al POG, in cui il privato va a presentare una proposta di edificazione in cui dà anche dei benefici al comune, cioè noi diamo dei vantaggi al privato che viene a costruire, anche attraverso l'aumento, ad esempio, delle volumetrie, il privato ci lascia da un vantaggio al comune, tipo costruisce un edificio apposito. Attualmente sono stati presentati due PIRU al comune, e quindi l'invito che faccio ai tecnici è quello di usare questo importante strumento urbanistico, e in futuro in concertazione con i tecnici, con la parte politica, che devo dire, l'altra cosa di cui vado molto orgoglioso nel corso del tempo, è quella, e lo ripeto ancora, che c'è stata molta concertazione, molta concertazione con i tecnici, molta concertazione con i cittadini, quindi questo non è un piano calato dall'alto, questo non è un piano non condiviso, questo è un piano, ci sono innumerevoli manifesti che abbiamo fatto a stessimonianza di questo, questo è un piano che è stato condiviso, è un piano che mi aspetto che venga ulteriormente condiviso dopo questo passaggio in Consiglio Comunale, perché adesso si aprirà una fase in cui si potranno fare delle segnalazioni, in cui il cittadino potrà fare, attraverso il tecnico, potrà fare delle segnalazioni, e quindi attraverso questa fase potranno essere ulteriormente accolti all'interno del piano, piano che chiaramente seguirà tutto un'iter in regione, e credo e sono convinto che presto verrà approvato definitivamente, verrà assunto e quindi darà finalmente quei benefici, quell'innovazione ulteriore alla collettività, che questo va di passo con un'altra cosa e chiudo e ci tengo tantissimo, anche attraverso questa amministrazione ha investito tantissimo, sulle persone, sugli uffici, oggi abbiamo finalmente un nuovo ufficio, fatto di nuove persone, con cui credo nei prossimi anni questo ci potrà supportare ulteriormente, sempre a vantaggio dei cittadini, perché potranno interlocuire sempre di più con gli uffici, con le persone e con un piano che, lo ripeto, tiene conto dei rischi idrogeologici, tiene conto delle cavità all'interno del centro storico, un piano che, e questo ci tengo a dirlo, è stato seguito in maniera brillante da parte degli uffici della regione e da parte dell'ADB, l'ADB ci ha dato una grossa mano a far sì che questo piano venisse al meglio seguito e ci ha dato suggerimenti utilissimi per portarlo a termine, grazie. Non poteva mancare, per così dire, il padre di questo piano regolatore, mi riferisco all'architetto Nicola Fuzio, che ho al mio fianco, la collaborazione dei vari soggetti amministrativi, tecnici, ma come dire, l'ideatore, il padre, come detto, è lui. Intanto, quali sono stati i criteri guida, quelli che lei ha considerato come punti di riferimento nella stessura e nella definizione del piano? Sì, innanzitutto, anzi sicuramente partire da quello che è l'attuale piano regolatore generale, che è un piano regolatore che comunque aveva delle lacune dovute un po' al periodo in cui è stato redatto, un po' alla gestione anche dello stesso piano, che nel tempo ha subito una serie di rivisitazioni. Per quanto riguarda poi l'adeguamento a quelle che sono le normative sopravvenute, mi riferisco per esempio al nuovo piano paesaggistico territoriale regionale, e sicuramente ai nuovi principi della pianificazione, che sono quelli legati al contenimento dell'uso, del consumo del suolo, alla rigenerazione urbana, alla tutela paesaggistica, insomma tutta una serie di criteri che sono ormai la maniera del fare l'urbanistica oggi. Questo è un piano sicuramente innovativo, uno dei pochi bug in fase di adozione in Puglia, perché l'urbanistica in Puglia è un po' ferma in questo periodo, è sicuramente un piano innovativo e devo dire un piano anche cucito sulla realtà, la ertina perché è veramente stato in qualche modo calzato. Se fosse una persona diremmo ad personam, dovremmo dire proprio ad terram, cioè con questo neologismo ritagliato, realizzato in funzione di? Certamente sì. Cucito, ecco. Grazie devo dire anche a una forte partecipazione sia del comune attraverso gli uffici, attraverso la politica perché ha avuto anche un ruolo importante, cioè un sindaco comunque illuminato, qual è il sindaco Lopane, ma anche attraverso la copianificazione, si chiama così, cioè la collaborazione che abbiamo avuto dagli enti che poi dovranno dare il loro parere sul piano. Mi riferisco alla Regione Puglia, mi riferisco alla soprintendenza, al Ministero dei Beni Culturali, cioè tutti quegli enti che sono entrati nella copianificazione e con noi hanno redatto questo piano. Ovviamente siamo in una fase di adozione, ora ci sarà il periodo delle osservazioni, e poi ci saranno i pareri appunto degli enti che, devo dire, nel caso di La Terza, data tutta la pre-pianificazione che abbiamo fatto, dovrebbe essere abbastanza. Lavoro retrostante alle spalle. Preparatorio, sì, preparatorio. È stato molto importante, molto faticoso. Abbiamo lavorato molto bene anche col distretto meridionale, l'ex autorità di Bacino, dove abbiamo trovato anche, devo dire, delle persone molto disponibili, perché La Terza, comunque, come tutti i paesi, diciamo, dell'arco ionico, hanno dei problemi di carattere idraulico, geomorfologico, tutto il sistema delle gravine e delle lame. È anche da questo punto di vista un piano molto attento alla tutela del paesaggio e dell'ambiente. Ovviamente ci aspettiamo, dopo questa adozione, una serie di contributi collaborativi, si chiamano le osservazioni al piano, che potranno ricalibrare ancora meglio le previsioni del piano urbanistico generale. Un piano regolatore vede molti attori protagonisti. Abbiamo visto certamente il ruolo degli amministratori, ma altrettanto fondamentale, imprescindibile, è quello appunto degli uffici tecnici. Motivo per cui ho al mio fianco l'architetto Patrizia Milano, che è responsabile appunto dell'ufficio tecnico. Allora, parliamo un po' di questa gestazione di questo piano, con riferimento ovviamente alla attività svolta dall'ufficio, dall'iretto. Il Pug è, credo, forse il procedimento più articolato che un comune possa gestire. Consideriamo che l'iter del Pug è partito molti anni fa, nel 2006, quando è stato approvato il primo documento, che è il documento preliminare, il documento programmatico preliminare, che ha sancito l'avvio delle attività del Pug. Successivamente ci sono stati tutta una serie di atti in cui si è ripresa l'attività del Pug, prima nel 2013, poi nel 2016, per arrivare ad oggi, il momento dell'adozione. Dicevo, il Pug è uno strumento complesso, perché non è più soltanto uno strumento di pianificazione urbanistica, ma include all'interno tutta una serie di questioni che riguardano, ad esempio, le tutele paesaggistiche e la valorizzazione del territorio. Non si parla più di tutela, ma si parla di valorizzazione. Contiene all'interno la valutazione della conformità alla pianificazione sovraordinata, e quindi si vanno a studiare gli aspetti relativi alla idrogeomorfologia del territorio, alla pericolosità idraulica, e ovviamente, come tale, necessita di uno studio molto complesso e che porta via tanto tempo. Tanto tempo che è dato sia dalle analisi del territorio, che nel Pug sono un elemento fondamentale, sia anche perché, ovviamente, questa parte qui deve essere concordata con gli enti sovraordinati. E una parte molto importante è stata quella delle conferenze di copianificazione. La copianificazione è una novità che è stata introdotta dalla legge urbanistica regionale e che prevede che prima dell'adozione del Pug si concordi con gli enti che si dovranno poi esprimere sul piano le questioni territoriali. E questo è l'elemento che ha portato via più tempo. E finalmente oggi abbiamo raggiunto l'obiettivo dell'adozione, dopo aver incassato un parere positivo dell'autorità di bacino, del distrettuale, perché adesso l'autorità di bacino di Puglia e di Basilicata è diventata del distretto, e della Regione Puglia ufficio lavori pubblici. E successivamente siamo pronti ad acquisire, a seguito dell'adozione, i pareri anche relativi alla conformità paesaggistica e urbanistica.